Ci sono molte storie che iniziano con la frase C'era una volta Ma questa, che è la storia dell'umanità È iniziata prima di ogni altra È raccontata in un libro chiamato La Bibbia E comincia con le parole In principio Guardate, c'è Giuseppe Il cocco di papà, il suo preferito Lui sta a guardare e intanto noi lavoriamo Che cosa? Che ne dite? Non sarebbe una cattiva idea mandarlo un po' nei campi a imballare il fieno? O magari rotolarlo nella polvere dove noi fatichiamo tutti i giorni Nostro padre si aspetta che completiate la mietitura prima del tramonto Beh, se ci dessi una mano potremmo anche finire per mezzogiorno Ho degli altri campi da ispezionare adesso È più giovane di tutti noi Perché dobbiamo prendere ordini da lui? Che bello! Eccoti Giuseppe! Mi hai fatto chiamare padre? Sì, ho un bellissimo regalo per te Questa è una tunica degna di un principe Un vero principe, sì Provala, avanti Ah, questa tunica si avvice perfettamente al mio Giuseppe È divertente Giuseppe, facci ridere ancora E tutti stavamo legando i covoni di grano E a fine giornata i vostri covoni ci inchinavano ai miei Noi dovremmo forse inchinarci davanti a te Vorresti diventare il nostro re, non è vero? Stammi bene a sentire, fratellino Nessuno di noi si inchinerà mai davanti a te Se volete posso raccontarvi il sogno che ho fatto l'altra notte Quale? Quello in cui cavalcavi un cammello volante tra le stelle in cielo Incitandolo alla corsa con una piuma di pavone Forse era meglio se stavo zitto Coraggio Giuseppe E va bene Ho sognato di scalare una montagna molto alta Ho guardato in alto e ho visto il sole, la luna, le stelle Che si inchinavano davanti a me tutti insieme Che cosa vorresti dire? Forse che io, tua madre e i tuoi fratelli Dovremmo inchinarci davanti a te Io non lo conosco il significato di questi sogni E voi? Sarà il tempo a svelarcelo Padre, ma come sarebbe? Non vorrei dire che credi alle assurde fantasie di Giuseppe Se questo sarà il volere di Dio Anche noi ci inchineremo davanti a Giuseppe Tu non fai altro che assecondarlo E lui si è messo in testa delle fantasie stravaganti Giuda! Vai a Sikhen a vedere cosa fanno i tuoi fratelli con le gregi al pascolo Di loro che voglio un resoconto dettagliato di quante sono le pecore Quanti sono i montoni e quanti gli agnelli nati in questa stagione Partirò domattina all'alba Dovresti ritornare tra dodici giorni, a Dio piacendo Non preoccuparti, padre Non mi accadrà nulla di male Oh, guardate un po' chi c'è Il sognatore! Forse dovremmo inchinarci tutti davanti a lui Ma guarda, eccolo lì, la spia del vecchio Mi piacerebbe così tanto potergli spezzare le ossa Io dico che dovremmo ucciderlo e sbarazzarci di lui per sempre Potremmo gettarlo in quella cisterna vuota laggiù Nessuno lo verrebbe mai a sapere Non si uccide il proprio fratello Ah sì? E se uno scorpione venisse in mezzo a noi? Non lo schiacceremmo per caso? Nostro fratello non è uno scorpione Ha rovinato il rapporto con nostro padre Perché lui veste sempre abiti eleganti mentre a noi tocca soltanto faticare? Perché Giuseppe è il primo genito di Rachele E allora? Ti sembra un motivo sufficiente questo? Sì Giuda, agli occhi di nostro padre Se vorresti metterti contro tuo padre Nostro padre comanda a casa Ma adesso, qui, in mezzo alla campagna È tutta un'altra storia Forse questa è l'occasione giusta Aspetta Non dobbiamo spargere il sangue di nostro fratello Gettiamolo vivo in quella cisterna e lasciamolo lì Ah, finalmente vi ho trovati Nostro padre aveva detto che eravate a Sikhem E là mi hanno detto di cercarvi a Dotain C'erano pochi pascoli, a Sikhem e anche qui non sono un granché E così tutti i giorni dobbiamo pascolare le greggi lontano da casa E dormire all'addiaccio su giacigli di fortuna sotto le stelle La mia borraccia è vuota, non avete un po' d'acqua? La cisterna è asciutta Ma se scavi con le mani magari un po' d'acqua la trovi Ti aiuto io ad entrarsi Che cosa vuoi fare? Simeone No, lasciami andare E così ve ne siete liberati Lavorare stanca? Beh, ci siamo meritati la cena Vado a controllare le greggi Aiuto! Ehi, sta arrivando una caravana Aiuto! Sono Ismailiti Ora sentiranno le grida di Giuseppe Tiratemi fuori di qui! Vado a farlo smettere Aspetta Perché non proviamo piuttosto a venderlo a questi stranieri? Così almeno se lo porteranno con loro in Egitto Simeone Per un attimo avevo pensato che mi lasciaste qui a morire E invece abbiamo un futuro migliore per il sognatore Che cosa avete fatto di Giuseppe? Non è nella cisterna! Avete sparso il suo sangue, dimmelo! No, l'abbiamo venduto come schiavo per venti cicli E ora è in viaggio verso l'Egitto No, gli abbiamo strappato la tunica Sporcandola di sangue di capra Nostro padre penserà sia stato attaccato da una bestia feroce Oh no! L'abbiamo trovata in una radura nei pressi di Sigham Cos'hai capito? Ti avevo detto che volevo una schiava femmina Schiave non ne ho trovate Quest'uomo è ebreo, ha le mani morbide Ma il mercante ha detto che è intelligente Fallo iniziare dalle cucine Il signore benedisse Giuseppe Che presto fu incaricato di occuparsi delle faccende domestiche di Putifar Nonché dei suoi affari Giuseppe Sì? Sono ormai due anni che vivi presso la nostra famiglia E ti occupi delle faccende di casa Ti sei anche meritato gli elogi di mio marito Per le tue grandi doti Il mio padrone mi ha sempre trattato con giustizia E io? Non ti ho trattato con giustizia io? Perché continui a tenere le distanze da me? Ecco, io ho sempre un sacco di incarichi e di lavori da svolgere Lo so bene Giuseppe Ma anche io ho un incarico per te adesso Perché non vuoi unirti a me? Che cosa c'è? Non ti piaccio? Non posso tradire il mio buon padrone Ma lui non lo saprà mai No! No! Un uomo è entrato nelle mie stanze E ha cercato di aggredirmi Come hai potuto tradirmi? Io non ho fatto niente A chi ha intenzione di credere? A lui? O a me? Portatelo in prigione Ma il signore non abbandonò Giuseppe nemmeno in prigione Giuseppe entrò nelle grazie del capo carceriere E fu incaricato di gestire gli affari della prigione Chi sono i prigionieri che hanno fatto questi strani sogni? Sono il capo panettiere e il capo coppiere del faraone Arrivano dal palazzo del faraone Forse allora dovrei ascoltare il loro racconto Per primo voglio sentire il sogno del coppiere Signore, nel sogno ho visto una vite davanti a me E sulla vite c'erano tre tranci Appena spuntati i germogli sono fioriti E l'uva è maturata nei grappoli Io avevo in mano la coppa del faraone E così ho preso i grappoli e li ho spremuti nella coppa Che poi ho offerto al faraone I tre tralci di uva sono tre giorni Sii felice Fra tre giorni il faraone ti libererà dal carcere Tu riavrai il tuo vecchio incarico E porgerai di nuovo la coppa nelle mani del faraone Come hai sempre fatto in qualità di suo coppiere Grazie mio signore Che la benedizione sia con te Ricordati di me Quando tornerai di nuovo in libertà E parla di me con il faraone Digli che sono stato rapito Venduto come schiavo E portato qui in Egitto Poi per due anni ho servito il capitano delle guardie Sempre lealmente Ma sono stato tradito e gettato in prigione Sii glielo dirò signore E ti sarò eternamente riconoscente E tu? Che cosa hai sognato? Oh signore Pensate un po' Io ho sognato di avere in testa tre grandi cesti di pane Il cesto più in alto conteneva le paste preferite del faraone Ma gli uccelli continuavano a mangiare da quel cesto Tre grandi cesti hai detto Anche i tre cesti di pane rappresentano tre giorni Tra tre giorni Il faraone farà tagliare la tua testa E gli uccelli strapperanno la carne dalle tue osse Tre giorni dopo si avverarono entrambe le predizioni Ma il coppiere riavuto il suo incarico Dimenticò la promessa fatta a Giuseppe Il faraone convocò tutti gli indovini affinché interpretassero i sogni che lo affliggevano Ma nessuno ci riuscì Allora il coppiere si ricordò di come Giuseppe avesse interpretato il suo sogno E quello dello sfortunato panettiere E chi è quest'uomo? E' un ebreo che si chiama Giuseppe E che è stato rinchiuso in prigione per crimini che sostiene di non avere commesso Fallo portare da me Ho fatto due sogni molto particolari Nel primo mi trovavo sulle rive del Milo Dal fiume uscirono prima sette vacche grasse e pasciute Poi altre sette vacche deboli e magre Che divorarono le vacche grasse E qual è il secondo sogno? Ho visto sette spighe di grano belle piene crescere da un solo stilo Dopodiché sono spuntate altre sette spighe di grano secche, vuote, arse dal vento Alla fine le sette spighe vuote hanno ingoiato le sette spighe piene Entrambi i sogni hanno lo stesso significato Dio ti ha rivelato quali sono i suoi progetti su di voi Le sette vacche grasse e le sette spighe belle e sane Indicano che l'Egitto avrà ancora sette anni di grande abbondanza Ma che successivamente ci saranno sette anni di carestie E molti uomini moriranno E che cosa dovrei fare? Devi trovare un uomo che sia saggio Per poterlo mettere a capo delle terre d'Egitto Dovrai nominare dei commissari fidati Che riscuotano un quinto di ogni raccolto durante gli anni di abbondanza E che lo conservino per gli anni di carestia Poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo Io ti nomino unico sovrintendente della terra d'Egitto e del mio popolo Ecco Tieni In Egitto soltanto io sarò più in alto di te E si avverò tutto ciò che Giuseppe aveva predetto Ma la siccità colpì anche la terra di Cana Dove vivevano il padre di Giuseppe e i suoi fratelli Mi hanno detto che in Egitto è possibile trovare il grano Prendete i vostri fratelli e andate a comprarlo O moriremo di fame Giuseppe riconobbe immediatamente i suoi fratelli Ma loro non lo riconobbero E voi da dove venite? Dalla terra di Canaan, signore Siamo qui per comprar viveri per le nostre famiglie Secondo me siate spie Volete capire se potete attaccarci e saccheggiare i nostri magazzini? No, signore Parlatemi un po' di voi, corato Ecco, noi siamo una famiglia di dodici figli Soltanto uno è morto Mentre il più piccolo vive con nostro padre che è molto anziano E com'è morto vostro fratello? È stato dilaniato da delle bestie feroci Abbiamo portato la sua tunica insanguinata a nostro padre Guardie! Questi uomini sono spie Portateli in prigione! No! Dopo tre giorni, Giuseppe si placò E mandò a chiamare i suoi fratelli Vi darò l'opportunità di provare che state dicendo la verità Uno di voi resterà qui in prigione Gli altri andranno a portare i viveri ai vostri familiari Ma a una condizione dovrete portarmi il vostro fratello minore Se la vostra storia è autentica Rilascerò il fratello rimasto in prigione E sarete tutti liberi di tornare a casa Ti ringraziamo, signore Dunque, vediamo Io scelgo... Te! Tu resterai in prigione Che cosa sono? Cosa? I soldi sono ancora nella sacca Gli egiziani ci accuseranno di furto ora In ogni sacco c'erano ancora i soldi L'importo esatto che avevamo pagato per il grano E hanno tenuto in ostaggio il mio Simeone Ma come avete potuto? Perché mai avete detto a quell'uomo Di avere un altro fratello più giovane? Lui ci interrogava con insistenza Ci ha fatto domande sulla nostra famiglia E anche delle domande su di te, padre Ho già perso il mio adorato Giuseppe E piango la sua scomparsa tutti i giorni Ma non capite, Beniamino è l'unico figlio Che mi è rimasto di sua madre Se gli dovesse succedere qualcosa di male Io morirei Te lo riporteremo a casa Dobbiamo solo condurre Beniamino in Egitto A sincera conferma che è il nostro fratello minore Se non te lo riporto di nuovo a casa Sarò colpevole verso di te Per il resto della mia vita Guardie Conduceteli nel mio palazzo E portate anche quello che è in prigione Vuole fare di noi i suoi schiavi E come ti hanno trattato in prigione? Mi hanno sempre trattato con equità Mio signore, ti abbiamo portato in dono miele, mirre e spezie E come già promesso anche il nostro fratello minore Beniamino Sì, a quanto pare siete uomini d'onore Allora, tu saresti Beniamino Dimmi come sta tuo padre È molto invecchiato E inoltre è sempre triste e afflitto Dal giorno in cui Giuseppe morì Mangiamo tutti insieme Prima che affrontiate il vostro viaggio Hai notato come ci ha fatti sedere attorno al tavolo? Dal più anziano al più giovane Come faceva a saperlo? Tutti quanti dicono che Dio è con lui Quando ero rinchiuso in prigione Mi hanno raccontato come ha salvato gli egiziani Dalla grande carestia Ha salvato anche le nostre famiglie Del resto Neghi di averla rubata al mio padrone? Eppure questa è la sua coppa Deve esserci un errore Noi non abbiamo Di chi è questa borsa? Non potete prendere lui Arrestate me La colpa è soltanto mia Perché mai mi avete derubato? Non vi avevo forse trattato bene Colmandovi di provviste da portare alle vostre famiglie? Signore E come possiamo difenderci? La coppa è stata trovata nella sacca di mio fratello Ma non sappiamo come sia finita lì Anche i soldi che le avevamo dato erano nei nostri sacchi Come l'altra volta Noi siamo uomini onesti Abbiamo portato nostro fratello minore come promesso E adesso Dio ci sta punendo per i nostri peccati Vostro fratello minore resterà qui con me Lo terrò come mio schiavo La supplico signore Prenda piuttosto me come suo schiavo E lasci che i miei fratelli riportino Beniamino da suo padre Se tornano a casa senza Beniamino Il nostro padre morirà di dolore Lasciateci da soli E chiudete la porta Ma non avete ancora capito chi sono io? Sono vostro fratello Giuseppe Sì Proprio quello che avete venduto come schiavo Non abbiate paura È stato Dio a mandarmi in Egitto E qui mi sono guadagnato i favori del faraone Così ho potuto salvarvi da una terribile carestia Fratello Il mio Giuseppe è dunque vivo È il sovrintendente supremo dell'intero Egitto Il mio amatissimo figliolo Giuseppe È vivo dopo tutti questi lunghi anni È il Signore Dio che me lo manda Dio parlò a Giacobbe E gli disse di andare in Egitto con i figli Lui gli sarebbe stato vicino E avrebbe trasformato la sua famiglia In una grande nazione Un giorno l'avrebbe riportato Nelle terre degli antenati Ma Giacobbe Colui che Dio stesso aveva chiamato Israele Sarebbe morto in Egitto Con suo figlio Giuseppe accanto Fu così che Giuseppe e i suoi fratelli Restarono in Egitto E lì si moltiplicarono Ed ebbero una grande progenie Questa è la storia di Giuseppe L'interprete dei sogni 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 Grazie a tutti.